La GF Loa Beakers diventa GF OnEnergy La Gran Fondo Loa Beakers cambia pelle e diventa la Gran Fondo Internazionale OnEnergy. L'accordo tra il patron del GS Loa Beakers, per Nicola Pesce, e il patron del marchio monegasco di nutrizione sportiva Bio, Dimitri Miolano, ha dato vita e nuova linfa a quella che aspira a divenire la più ambita Gran Fondo di fine stagione, che si terrà il 24 settembre all'Oano. . Nelle prossime settimane saranno svelate le tante novità Bel percorso, ricchissimo pacco d'ara, ospiti d'eccezione, ampio villaggio Expo e tanto altro ancora, che la compagina monegasca e la società Ligure metteranno sul piatto per rendere indimenticabile questo evento. . 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